amiche e amici di ciclo web breve storia triste la squadra più forte del mondo la sky vuole vincere il giro d'italia nel corso degli anni non solo quest'anno vediamo un po facciamo un rapido riassunto delle puntate precedenti 2013 brady wiggins ciclista numero uno in quel momento al mondo reduce dalla vittoria al tour de france si presenta al giro per farlo suo per provare a conquistare anche la corsa rosa non gliene va bene una non la porta neanche a termine la corsa italiana si ritira stata facendo comunque le stava le stava prendendo avuto acciacchi fisici è caduto nella crono sotto la pioggia va bene una dietro l'altra 2015 richie port viene al giro per provare le sue chance da capitano anche lui non è autore di una prova eccellente però è ancora in classifica se ne potrebbe giocare ma in una tappa interlocutoria fora dalla ruota un suo amico simon clark che però c'è un piccolo particolare è di un'altra squadra della orica e questo è vietato dai regolamenti lo penalizzano di due minuti richie port e lì inizia il tracollo in classifica 2015 no l'ho detto 2016 michel anda reduce da una grande stagione in magliastana ha cambiato squadra vuole anche lui venire a provare a vincere il giro ma a metà corsa uno square house come direbbe peo pericoli lo mette fuori causa ciao michel ci riprova l'anno scorso michel anda 2017 però la sky dice vabbè ti mettiamo ti affianchiamo un altro capitano garen thomas arrivano tutti e due belli carichi pronti per dare il meglio nella prima tappa diciamo decisiva di montagna quella del block house ai piedi della salita un corridore della sunweb sul lato sinistro della strada va a sbattere contro una moto parcheggiata improvvidamente a bordo strada cade e fa uno strike che colpisce i corridori stavano dall'altra parte a destra e chi erano quelli della sky landa e thomas tutti e due i capitani fatti fuori poi thomas proprio non prosegue si ritirerà landa invece si riprende fa delle belle tappe nell'ultima settimana però nulla da fare per la classifica e quindi c'è questa maledizione della sky che in questi anni ha trovato anche delle maniere abbastanza creative per per mettersi fuori causa per mettersi ko nella corsa rosa quest'anno portano tra squiri di fanfare il grande capitano chris frum e lui cosa pensa pensa bene stamattina nella ricognizione della crono di gerusalemme ovest di cadere di scivolare di una curva valutando male insomma la svolta e di riportare una serie di acciacchi abrasioni colpi qua e là nulla di serio intendiamoci nulla che possa pregiudicare poi la possibilità di frum perfum di vincere il giro però sicuramente qualcosa che ha lasciato il segno almeno nell'immediato e che probabilmente oggi gli ha impedito di dare il massimo di rendere al meglio e la prova la riprova ce l'abbiamo nel risultato 37 secondi pagati da frum a uno scatenato tombi mulen che ha tutta l'intenzione di ripetersi e ora avremo un frum che se si rimette come ci auguriamo come gli auguriamo avrà la necessità di attaccare lui l'avversario in maglia rosa vedremo se sarà ancora tombi mulen ci sono anche altri rivali che hanno fatto meglio di frum però la cosa curiosa è che veramente questa sky continua ad avere questa questa nuvola di fantozzi quando viene al giro d'italia e anche se le prova tutte ce la mette tutta capita sempre qualche intoppo qualche imprevisto che le rende la vita difficile comunque avremo uno spartito diverso rispetto a quello che siamo soliti non ammirare al tour de france con la sky in questo caso la sky dovrà attaccare dovrà ribaltare una situazione che al momento è già svantaggiosa e non di poco per frum niente può essere questa sia può essere questo sia un aspetto che ci regalerà dei pomeriggi divertenti nelle prossime tre settimane noi ci vediamo domani con un altro mini video sul giro d'italia ciao ciao da giro d'italia Grazie a tutti.